I punti deboli della nostra squadra in questa partita si può dire che sono stati magari la mancanza di un po' di determinazione e comunque tanti errori che potevamo evitare considerando il fatto che comunque l'avevamo già battuto il Castion e principalmente penso sia questo. Il raggiungimento di questa finale si debba considerare come un punto di partenza. Il nostro obiettivo era fare bene ma sicuramente resta primario l'andamento del campionato che si discuterà da gennaio. Quello penso che sia l'obiettivo più importante e anche dove dobbiamo lavorare di più. Le ragazze in palestra mi sembra che stiano bene, bisogna solo trovare un po' più di continuità in partita dove per l'allenamento non ci sono grossi problemi. Grazie a tutti.